Anche un po' di emozione per questa prima assemblea del Consiglio Generale dell'Unione dei Comuni della città caudina e concludiamo formalmente tutto un iter procedurale complesso, complicato, ma l'abbiamo fatto in un anno per cui anche la soddisfazione mia, ma il ringraziamento ai sindaci, ai delegati delle altre comunità, dei nuovi comuni che hanno aderito a questo progetto e questa speranza che abbiamo di, come dicevi tu prima, di migliorare la nostra qualità della vita, questo è il nostro obiettivo che ci poniamo. C'è tanto da lavorare, abbiamo fatto le cose formali, adesso dobbiamo fare cose sostanziali, per cui indirizzi programmatici, lavorare un po' sull'urbanistica, su quello che sarà l'agenda 2014-2020, dobbiamo dare indirizzi sul piano programmatico per intercettare i nuovi fondi comunitari, gli ultimi fondi comunitari che ci saranno nella prossima settennalità, per cui c'è un grande impegno. E soprattutto la speranza che questo lavoro che abbiamo fatto possa servire anche alle future generazioni, ai Montesercisi, ai Cervinarisi, ai San Martinesi, agli Erolesi, a tutti quelli che hanno posto le speranze del proprio futuro in questa realtà politica che è la città caudina. Noi siamo un tutt'uno, per cui dobbiamo avere la consapevolezza che siamo un tutt'uno piccolo all'interno di una grande regione come quella della Campania, però possiamo svolgere un grande ruolo di Cernilla tra le aree costine e le aree interne della nostra regione e soprattutto su una grande direttrice che è quella della nostra antica Appia che collega il Tirreno ad Adriatico, per cui noi dobbiamo fare questo tipo di lavoro e lavorare sui nostri giacimenti, i parchi naturali, i nostri giacimenti dei beni culturali, per cui fare questo lavoro tutti quanti insieme. Non c'è spazio per la politica politichese, c'è spazio per chi vuole lavorare, per chi ha voglia di dare un contributo, per cui non ci saranno protagonismi di sorta, anche perché la mia presidenza durerà un anno, nel nostro statuto abbiamo messo che ogni anno cambierà la presidenza. Io ho l'onore di essere il primo, il sindaco di Montesaccio, di essere il primo presidente della città caudina, l'anno prossimo ci sarà il comune di Cervinara, l'anno successivo ce ne sarà ancora un altro, per cui anche questo dà il significato di essere una cosa molto seria, per cui ci teniamo che possa essere una cosa seria. Adesso al lavoro sulle cose concrete, è un grande in bocca al lupo a tutti quanti noi, ma soprattutto a tutti i cittadini della Valle Caudina.